Se trovo un'arma leggendaria oro il video finisce Ok, facciamo solo oro Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore inserite il codice portu Poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darò un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo alle Slake per provare la challenge Se trovo un'arma leggendaria il video finisce Spero che la challenge vada bene In realtà ragazzi ho veramente una quantità di clip comiche Ai limiti del ridicolo Che voi non potete neanche capire ragazzi Sta di fatto che sotto io ho una cell Cioè una cesta epica Cioè sotto una cesta figa Una di quelle che danno già Vabbè io provo, io attento ragazzi Sfido la sorte E mi è andata bene mamma mia Ma mi ero già detto mi ho perduto la challenge Vabbè ok, c'è andata anche troppo bene ragazzi Aspettate però Stiamo pieni di nemici Non so se sentite ma siamo veramente circondati Guarda sto infame Niente va bene Strano avevo sentito un altro No, andato lì ok Allora calmi ragazzi calmi Che lasse stanno affaitando Noia Sono tre nemici in questa zona Allora uno qua e due affaitare Forse quello affaitare Si sono eliminati tra di loro Quindi Possiamo pushare noi Ok Sta uno in fondo Dove si sta dirigendo Quello in fondo Non lo vedo più Vabbè Ok Andiamo dai Sta qua questo Ah Mamma mia Come cavolo ha fatto Grazie per avermi alzato bro Gentilissimo Oh no 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 E bro manco il tempo di farmi arrivare però Mamma mia What is it? Marcello Wow E' andata guys E' andata E' andata Ce le siamo fatti tutti GG per noi A un certo punto Non sono riuscito Neanche più a ragionare Su cosa stessi facendo Per quanto abbiamo dovuto Giocare velocemente Quindi GG Wow Andata dai Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Ragazzi Ok Oh 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 Inemico 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 ragazzi Inemico Oh 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 man Ma che è ragazzi? No un altro però no Sì però Un altro te lo potevi sparmiare il gioco E che fastidio Ebbiamo di Eh E basta Cioè Un attimo Un attimo Per piacere Wow Cosa stiamo creando guys? Vabbè tanto ora perdo una partita così bella non la posso mai pubblicare nella mia vita Cioè Io credo che da questo punto Sono solo ragazzi questa partita non verrà mai pubblicata Cioè è impossibile Comunque ragazzi nel caso iscrivetevi al canale se non siete già iscritti perché Boh non lo so iscrivetevi Perché comunque faremo altri video di questo genere Cioè del genere se succede questa cosa il video finisce Perché ho visto che vi piacciono un sacco ragazzi Infatti io vi ringrazio veramente per tutto il supporto che state dando Siete veramente incredibili Siete veramente una grandissima soddisfazione Siete veramente dei grandissimi amici Grazie mille Vi ricordo inoltre anche di seguirmi su Instagram C'è il mio profilo in descrizione tramite un link O basta andare sul mio profilo Instagram FortuTheGamer Si chiama Iniziatemi a seguire Vi tengo aggiornati su varie cose che faccio Che compro Prodotti hypebeast Quindi mi raccomando seguitemi lì E poi che altro dirvi Mi raccomando ragazzi ve lo chiedo come favore veramente personale Inserite all'interno dell'item shop Cioè del negozio Il codice creatore Fortu E se fate un acquisto col mio codice creatore attivo E me lo fate vedere all'interno di una stories su Instagram Io poi vi reposto tra le mie stories ufficiali Quindi mi raccomando guys Qui niente Va bene Va bene Ok Mi sto facendo un po' di materiali ragazzi Perché abbiamo fatto un bel po' di kill Posso un attimo dormire sui mie allori E andare un po' più tranquillo Credo che Allora ho visto una barca scendere dalla cascata Forse si sono fightati E Hanno lasciato cadere la barca Non lo so Aspettate Devo vedere bene la situazione Non so se il tipo è sceso sinceramente Io qua vedo il loot Però No il tizio sta là Mi ha visto? Non lo so Credo di No Perché 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 Vabbè No Vabbè Raga Persa Cioè No Vabbè Persa Raga Inutile Sì Inutile No raga No Cioè no 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 raga mi sono visto Cioè mi sono visto in trappa L'ho detto vabbè è persa Cioè me lo so proprio detto Ok ragazzi sto dove stanno Stanno oltre quella zona Me la faccio lunga raga non mi interessa A posto così Vai vai Su ragazzi Andare lì è solo un problema a questo punto Mi rifaccio full legno E siamo tutti felici e contenti Madonna è una farfalla quella che è panico No raga devono cambiare sta cosa delle farfalle Perché veramente le farfalle si scambiano Peggio dei nemici cioè No raga rende la castiga Cioè no No e non lo sono fucile di precisione, in quel caso la situazione diventa un po' più complicata eh no mi sto mirando, ok dai spara no no aspettate aspettate peccato perché non lo posso lootare ma non è un problema fa niente, ce ne andiamo questo era un nemico che mi sarei trovato alle spalle quindi tanto meglio averlo eliminato ora ci manca ancora un po' di roba ragazzi oh cavolo oh è white oh fra mi sono bloccato un secondo e mi sei ripreso subito dai ground che fastidio grazie per i flopper c'avevi pozze piccole? no vabbè giustamente si è ri-white ok a posto mi sono un po' pentito di aver lasciato indietro le pozze sinceramente ok cioè l'unica pozza in realtà che avevo perché era l'unica cosa che poteva curarmi lo scudo velocemente io mocio i flopper vabbè spero di non doverli usare sinceramente ok ragazzi siamo in 6 per ora voglio prendermi il game più chill e cercare di restare al mio posto e di uscire solo allo scoperto quando la vittoria non dico che ce l'abbiamo in pugno però è un po' più semplice di ora ora comunque ci toccherebbe fightare con un po' di persone quindi per ora sto ancora al margine perché lì ragazzi vedevo delle strutture e non mi facevano troppo piacere sinceramente non so che strutture sono se c'è qualcuno dentro se c'è un cecchino puoi tranquillamente eliminarmi da qui volevo aspettare che si godesse così la diga entrava tutta nella tempesta ci sta qualcuno ragazzi io non lo capisco ma senza if ok ok non è stupido non è stupido sei forte bro te lo concedo te lo concedo vediamo che fa fighta ok fighta va bene non è stupido non è stupido inutile dire che la sua posizione è ottima veramente inutile dirlo non è stupido 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Morto guys Ok ragazzi stiamo andando A lazy lake per tentare la challenge Se trovo un'arma leggendaria Il video finisce Allora partiamo dal presupposto che io ho una fortuna Ciorta vedete voi chiamarla ragazzi Che rasenta il nulla totale Quindi in realtà Non dovrei avere troppi problemi a vincere questa challenge Perché cioè io tranquillamente concludo partita Senza trovare Uno sputo di arma leggendaria Quindi cioè voglio dire È una delle challenge più fattibili che abbiamo Non c'è questo è il serio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti